5 semplici dei fai da te per la tua casa. Questa decorazione è perfetta per riciclare calzini spaiati in modo creativo. Arrotola la corda attorno al calzino in modo da formare degli spicchi. Infine attorciglia attorno all'estremità fino a coprirla del tutto. Delle adorabili zucche ornamentali. Ti sorprenderà cosa puoi ricavare da una scatola e dei rotoli di carta igienica. Copri con un foglio di feltro colorato. Non hai bisogno di colla, ti basterà incastrarlo bene con un paio di forbici. Ed ecco fatto! Un comodo porta anelli. La colla a caldo non si attacca sulla carta forno. Usa questo metodo per creare delle sculture e dare sfogo alla tua creatività. Rimuovi delicatamente la carta forno e colora con della vernice spray. Una decorazione originale per la tavola. Pratica dei fori con un pirografo sul tappo di un barattolo. Riempilo di sale grosso, chiodi di garofano e ammorbidente. Questo mix assorbe l'umidità e tiene profumato l'armadio a lungo. Basta poco per trasformare un semplice barattolo di vetro in un bellissimo portacandele. Un po' di spago, del sale grosso e del fil di ferro sono tutto ciò che occorre. Wow! Grazie! 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 Grazie!